Le storiche battaglie E questo è il quinto capitolo che dedichiamo a questo ormai è diventato un appuntamento fisso del giovedì che è seguito dagli ingegneri ma in questo giovedì potrebbero essere d'ascolto anche altri, no? Gli altri cosiddetti apparecchi colleghi universitari che sono con i quali sono proverbiali le dialettiche, le discussioni e chi sono questi colleghi? Sono i matematici, i fisici e gli architetti Vabbè, ci potrei mettere anche i colleghi lavorativi, i cosiddetti giovedì, no? Sono una delle ragioni uno dei motivi che può spingere uno studente che ha terminato il quinquennio di scuola superiore a iscriversi alla facoltà di ingegneria sono i famosi i dissing così come avrebbero chiamato adesso ovvero le battaglie le lotte le... li sfottò con i colleghi con i cuginastri possiamo chiamarli, no? o i fratellastri adesso le lastre, no? delle facoltà di fisica e matematica e di architettura ma cominciamo con forse quelli quelli più simpatici che sono gli architetti ci sono io ho avuto la possibilità di conoscere proprio persone sposate marito e moglie moglie architetto marito ingegnere a volte moglie ingegnere e marito architetto no? sono le famiglie quelle più unite solitamente nonostante ci siano diciamo grandi grandi presi in giro soprattutto da parte degli ingegneri nei confronti dell'architetto e questa può essere sicuramente una ragione diciamo plausibile veramente sfottò simpatici non devono essere non devono essere atti di mobbing non devono essere mobbizzati non devono essere atti di 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 bullismo ecco nei confronti dei poveri architetti ma chi non si iscrive alla facoltà di ingegneria non può avere questo grande non vantaggio questo grande diciamo questo gusto nel prendere per i fondelli un po' gli architetti a me è capitato di recarmi molto spesso da amiche perché la facoltà di architettura nell'immaginario è composta da più da donne che da maschi mentre invece la facoltà di ingegneria è pressoché riservata a maschi che poi adesso non è più così perché per esempio c'è anche la facoltà di ingegneria gestionale ingegneria chimica che è pullula di diciamo pullula di di ingegneri appartenenti al al sesso femminile di sesso femminile quindi non è sempre così iscriversi alla facoltà di ingegneria quindi può avere come grande vantaggio quello di andare a sfugugliare a appunzecchiare gli amici architetti solitamente devi immaginare lo collettivo se no si pensa di vivere assieme beh diciamo che con l'architetto avete mai immaginato cioè diciamo che la vita con un architetto insieme ad un ingegnere è la migliore no vengono messe in pratica no e diciamo gli opposti si attraggono perché comunque e quindi diciamo si immagina nell'immaginario collettivo c'è la donna che è la moglie l'architetto e il maschio il marito che è l'ingegnere e quindi grande diciamo grande gusto nel prendere in giro quelli che sono considerati diciamo di cugini i cugini inferiore no l'ingegnere nei confronti degli architetti ma poi ci può essere anche le storiche battaglie e queste sono un pochino più più aspre più più austere direi con i fisici per esempio beh ne abbiamo parlato tante volte anche in tanti video di pausa caffè di questo discorso l'ingegnere nutre grande stima nei confronti dei fisici e in realtà è il fisico che nutre un pochino meno diciamo stima nei confronti degli ingegneri non so perché perché forse diciamo vede l'ingegnere come un diciamo un professionista che si ritiene superiore si dia delle arie quindi magari il fisico è sempre un po' sul chi va là nei confronti degli ingegneri quindi lo vede sempre come una persona insomma da con il quale fare solo determinati discorsi certo è che solo se si iscrive alla facoltà di ingegneria si può arrivare quantomeno a dialogare quindi ad avere degli scontri sempre dialettici si intende si mancherebbe altro con i fisici perché chi frequenta la facoltà di fisica è ritenuto comunque molto in alto molto una persona di un certo livello perché comunque non è che tutti quanti si possono permettere di descriversi alla facoltà di fisica e quindi diciamo che l'ingegnere ha questo vantaggio può arrivare al livello quindi a parlare allo stesso livello di un fisico nonché il nostro terzo protagonista ovvero del matematico sì perché la facoltà di ingegneria abbiamo detto tante volte e anche negli altri capitoli presenta molti esami nei quali certo non si fa la matematica che si fa al dipartimento di matematica alla facoltà di matematica non si fa a questi punti di matematica perché la matematica che si fa a matematica non la fa nessuno ma anche in questo caso se con il fisico c'è un rapporto un pochino più conflittuale secondo me col matematico ci si scherza sempre ci si sfotte sempre però in maniera un po' più allegra tendo a vedere il matematico in maniera un po' diversa rispetto al fisico il fisico lo vedete un pochino più rabbuiato un pochino più imbronciato nei confronti dell'ingegnere il matematico invece no c'è più come posso dire più complicità nel mio immaginario con il matematico e quindi un'altra ragione perché si debba scegliere a tutti i costi la volontà dell'ingegnere è appunto avere dialoghi sia con i fisici che con i matematici tende a prendere che anche i matematici ci sono personaggi molto diciamo ritenuti borderline particolarmente personalità particolari perché il matematico comunque frequenta una facoltà dove la matematica ti esce dalle orecchie non è insomma e quindi ingegneria dà questa possibilità quanto meno di provare arrivare a discutere o con un fisico o con un matematico non a caso la facoltà di ingegneria molti docenti insegnanti sono vengono provengono dalla facoltà di fisica dalla facoltà di matematica ma aggiungo io c'è un'altra categoria con la quale si possono avere dei simpatici dissing dei simpatici delle simpatiche lotte ed è una facoltà sono dei colleghi ovvero i colleghi gestionali perché anche quello diciamo la possibilità di sfottere i gestionali che vengono ritenuti no di ingegneri più poveri di ingegneri non più poveri dal punto di vista ingegneri tra virgolette no ingegneria tra virgolette si ritiene queste 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 che sono adesso possono essere considerate leggende metropolitare non sono leggende metropolitane perché sono messe fuori da ingegneri appartenenti al vecchio ordinamento dovete sapere che chi ha frequentato il vecchio ordinamento l'ingegneria era un po' diversa un tempo diciamo che si dice che l'ingegnere che ha diciamo frequentato la facoltà di ingegneria nei vecchi ordinamenti è un ingegnere che è capace di fare tutto cioè un ingegnere sia ingegnere edile civile elettrico meccanico cioè può fare quasi può intraprendere nel mondo del lavoro quasi tipo di indirizzo quasi tipo di settore perché non ha problemi adesso questa grande divisione che si è fatta diciamo ultimamente diciamo per specializzare sempre di più un ingegnere ha fatto sì che questi ingegneri della vecchia scuola appunto andassero proprio a sfrugugliare in particolare gli ingegneri gestionali che per molta per molti ingegneri del vecchio diciamo della vecchia scuola non sono ritenuti dei propri ingegneri allora c'è questo io non sono assolutamente d'accordo su questo ma c'è questo diciamo queste battute che vengono fatte nei confronti degli ingegneri gestionali ritenuti ritenuti no degli ingegneri fra virgolette cioè ritenuti più studenti di economia e commercio che ingegneri ecco questo voglio dire cosa che è assolutamente falsa perché comunque l'ingegneria gestionale per laurearsi in ingegneria gestionale che un corso di laurea relativamente recente deve comunque avere a che fare con tanti esami gli stessi esami che hanno anche gli ingegneri quei più classici meccanici lettici elettronici informatici e così via dicendo e quindi avete capito il perché come quinto capitolo può essere diciamo non si può rinunciare è irrinunciabile questo appuntamento appuntamenti settimanali magari il sabato il venerdì sera che si esce e si va a iniziare a intraprendere queste lotte queste battaglie con i fisici con gli architetti con i matematici con i colleghi gestionali tutto questo te lo può dare solo la facoltà di ingegneria ed ecco perché allora questa può essere sicuramente un'altra buona ragione nel perché scegliere ingegneria a giovedì prossimo ciao